Partiamo. Dottor Giacomelli, dicevamo come prendersi cura dell'occhio nell'anziano? Sicuramente facendo dei controlli periodici. Tutte le maggiori società scientifiche internazionali consigliano infatti dei controlli periodici a partire dai 60 anni di età. Quindi si consiglia oltre quest'età una visita perlomeno biannuale dai 60 anni, anche se tutte le società scientifiche consigliano una visita all'anno e sopra i 70 una visita annuale. Questo perché le principali malattie dell'occhio si manifestano appunto al di sopra di questa età, dei 60 anni soprattutto. Pensiamo alla cataratta che si presenta tra i 50 e i 60 anni nel 5% dei casi e arriva al 70% dei casi sopra i 70 anni. La stessa cosa succede per la degenerazione maculare. Passiamo a un 10% di casi intorno fino ai 70 anni, per arrivare al 70% dei casi sopra i 75 anni. Questo vuol dire che il controllo periodico è la prevenzione maggiore che si possa fare, anche perché molte malattie dell'occhio non danno sintomi fino a che non siamo arrivati ad uno stadio diciamo così avanzato della malattia. Pensiamo al glaucoma che colpisce il 3% della popolazione in Italia circa 800.000 persone ne vengono colpite e si pensa e si sa anzi che la metà dei pazienti non sono a conoscenza di avere questa malattia. Per cui la visita periodica è la prevenzione migliore. Visita ovviamente dall'oculista. Ma ogni quanto si deve fare? Non basta fare l'esame della vista. Vedere 10 decimi, vedere bene non significa che l'occhio sia sano. Ecco questo è un punto importante perché spesso magari uno dice ma io non ho problemi, vedo perché dovrei andare dall'oculista e invece no. Esatto. Pensiamo appunto al glaucoma in cui la metà dei pazienti affetti da questa malattia non ne ha conoscenza. Viene chiamato apposta in maniera un pochettino così il ladro della vista. La stessa cosa è la maculopatia. Ci sono dei segnali che fanno intuire che quella retina, quella macula possa sviluppare una malattia senza che il paziente abbia dei sintomi. L'oculista andando ad esplorare la retina, andando a esplorare la macula, riesce a valutare la possibilità che questa possa sopraggiungere. Quindi il controllo costante periodico è fondamentale senza aspettare, ripeto, che ci siano dei sintomi. Quando ci sono i sintomi la situazione potrebbe già essere compromessa. Allora, partiamo con le domande e i messaggi dei nostri telespettatori. Buongiorno, sono stato operato cinque anni fa dal dottor Giacomelli all'occhio catarata e cristallino. Dopo due anni ho fatto l'altro occhio. Il dottore è un'eccellenza con tutto il suo staff, sempre disponibile, molto umano. La ringrazio di cuore, Gianfranco di Sestri Ponente. Dottore, partiamo con un super ringraziamento dove l'è il suo staff. Ora vediamo come andiamo avanti. Allora, buongiorno, volevo sapere se l'intervento di catarata si può fare in contemporaneo su tutti i due gli occhi oppure no? Grazie. Allora, è possibile operare tutti e due gli occhi contemporaneamente. È una cosa, è una metodica che io personalmente non consiglio. È vero che la complicanza più importante grave della chirurgia della cataratta, che è l'endoftalmite, si manifesta nello 0,5, 1 per mille, 2 per mille dei casi. Quindi in maniera molto limitata. Però anche nella nostra struttura, annualmente, purtroppo abbiamo qualche caso di endoftalmite, che non dobbiamo ricondurre a situazioni di sala operatoria, ma a situazioni di igiene o di comportamento del paziente. Per cui, perché andare a rischiare di perdere la vista in contemporanea nei due occhi per sottoporsi in contemporanea all'intervento di cataratta? Per me è una cosa che non si deve fare. Si fa un intervento di cataratta, poi dopo 15-20 giorni, se proprio si vuole correre, che poi anche lì non è necessaria questa corsa, se proprio si vuole fare in tempi brevi, dopo circa 20 giorni si può operare il secondo occhio. Ma in contemporanea è una procedura che io non consiglio. Buongiorno. Il diabete può causare glaucoma? Silvano. Il diabete può determinare il glaucoma, ma in una forma di diabete molto, molto, molto avanzata, con una gravissima compromissione della retina. Quindi il glaucoma viene ad arrivare per una retinopatia diabetica particolarmente avanzata, che va a determinare un blocco della filtrazione del liquido all'interno dell'occhio e si chiama glaucoma neovascolare. Diciamo che è una complicanza del diabete assai limitata e oggi molto rara, perché per fortuna riusciamo ad arrivare a trattare questi malati in tempi utili. Buongiorno. Giustissimo. Visite periodiche e prevenzione, ma i tempi di attesa anche per i bambini. C'è qualche trucco per trovare posto? Aprono dei posti periodicamente o in qualche momento particolare della settimana? Come bisogna regolarsi? Faccio con lei diciamo volentieri questa riflessione sulle liste d'attesa, perché insomma anni fa lei ha portato un vero e proprio cambiamento. Il problema dei tempi di attesa è un problema importante anche nella nostra struttura. Per quanto riguarda l'oftalmologia pediatrica, noi abbiamo due centri che lavorano diciamo così a pieno regime tutte le mattine, vediamo circa 40 bambini e costantemente ogni settimana aggiungiamo delle prestazioni, le cosiddette prestazioni aggiuntive a seconda del personale che abbiamo a disposizione. Nonostante questo i tempi di attesa sono abbastanza lunghi. Sappiamo però che le urgenze o tutto quello che viene considerato urgenza dal pediatra viene da noi visto entro 10-15 giorni sicuramente. Per quanto riguarda gli altri tempi di attesa molto dipende da questa richiesta che abbiamo per fortuna forse molto elevata anche da parte di tutte le altre strutture della regione, soprattutto dalle strutture del ponente Ligure e dal basso Piemonte. E questo ha fatto sì che i nostri tempi di attesa soprattutto per quello che era la chirurgia della cataratta che eravamo riusciti ad arrivare a due mesi, due mesi e mezzo, ora siano di circa cinque mesi per i pazienti ambulatoriali che sono sempre tempi ottimi in confronto a quello che è il tempo di attesa in tutte le strutture anche a livello nazionale. Lei ci sta raccontando anche che il suo centro è diventato attrattivo per pazienti che arrivano per esempio dal basso Piemonte perché noi parliamo sempre di tanti Liguri che vanno fuori a farsi operare, a farsi curare, giusto? Giusto, giusto. Costantemente noi quotidianamente operiamo persone che arrivano dal basso Piemonte, sono gli oculisti che lavorano in quel territorio che ci mandano i pazienti. La differenza fondamentale è che alla nostra struttura non sono i pazienti, non è l'oculista che si carica il paziente sulle spalle e se lo porta nella nostra struttura, è l'oculista che invia direttamente il paziente, per fortuna dimostrando grande fiducia in quello che sono i miei collaboratori, tutti molto bravi, e alla strumentazione che, ripeto, di assoluta eccellenza. Questo lo vorrei ribadire perché sento sempre parlare di cataratta, di chi vuole viaggiare in utilitaria e chi vuole viaggiare in macchine supersoniche. Nelle nostre strutture Liguri e quindi anche nella nostra, la qualità della strumentazione, la qualità dei materiali, la qualità delle lenti intraoculari è quello che si può trovare al meglio in tutte le strutture private degli altri centri. Ripeto, la differenza fondamentale è che nella nostra struttura i pazienti vengono inviati. I pazienti che vanno a farsi operare fuori regione è l'oculista, molto bravo della nostra regione, che riesce a portare i propri pazienti al di fuori della regione per operarli in centri privati o accreditati. Senta, prima di fermarci per un attimo, quali sono i numeri del suo centro per la cataratta? I numeri? Noi operiamo 4.500, l'anno scorso abbiamo fatto 4.500 interventi di cataratta, senza aggiungere le cataratte che operiamo in contemporanea con le altre patologie dell'occhio. Quindi arriviamo a impiantare circa 5.000 cristalline artificiali nell'anno. I tempi di attesa, ripeto, per la chirurgia della cataratta, per i pazienti ambulatoriali, sono di circa 5 mesi. Cioè quello che si prenota oggi viene ad essere operato verso febbraio-marzo. E quanto è la percentuale di quelli che vengono da fuori? Qual è la percentuale? La percentuale? Tenga presente che facciamo in certe giornate 20-30 interventi di cataratta e almeno il 10% dei pazienti che operiamo provengono da fuori regione, Basso Piemonte essenzialmente, in provincia di Alessandria soprattutto. Allora Massimo scrive, che cosa posso fare per la densificazione del vitreo? Tanto che cos'è? Allora, credo che lui si, penso che si riferisca ad una patologia che è il distacco posteriore di vitreo che rappresenta quindi un addensamento della gelatina, diciamo così, della struttura viscosa che tiene, chiamiamolo così, in forma, che rappresenta l'80% della struttura dell'occhio. Non esiste una terapia vera dei corpi mobili e degli addensamenti vitreali. Esistono dei farmaci che provano a ridurre questi addensamenti con scarsissimi risultati. In determinate situazioni, quando il distacco posteriore del vitreo si è appena manifestato, molto utile è reintrodurre con la dieta dei liquidi che vanno a reidratare, quindi bere tanta acqua durante il giorno e questo è utile soprattutto nelle stagioni calde o quando si è fatta un'attività fisica particolarmente intensa. Ed è per quello che in percentuale noi vediamo, soprattutto nella stagione estiva, questa particolare condizione del vitreo. Poi, in particolari situazioni particolarmente importanti, in particolari situazioni in cui questo vitreo diventa particolarmente, chiamiamo così, spesso particolarmente occupato da corpi mobili, e quindi si può arrivare alla chirurgia, però è una situazione che succede abbastanza raramente. Buongiorno, è dal mese di giugno che vedo dall'occhio sinistro un moscerino che si muove, a seconda di come muovo l'occhio. Ho fatto l'esame di Schepens, mi hanno assicurato che la retina è a posto e che non ho neanche il glaucoma, ma il professore mi ha detto che non ci sono cure. Mi devo rassegnare? Grazie. Sì, è quanto dicevo prima. Questo moscerino è sicuramente un corpo mobile endovitreale che farà compagnia alla signora per il resto della propria vita. Non c'è una cura da poter effettuare. La cosa importante è stata fatta, che è questo esame Schepens, che è l'esame della periferia della retina, perché a volte questa sintomatologia può rappresentare una spia per una sofferenza della retina periferica. Quindi una volta accertato che la retina periferica, che la retina è in ordine, bisogna convivere con questo corpotto mobile che si muoverà all'interno dell'occhio, ma poi con l'andare avanti del tempo la signora si abituerà, tra virgolette, a questa condizione e lo noterà sempre meno. Buongiorno. Mia zia, novantenne, devono asportare il cerchiaggio dall'occhio. È un anno che è in lista. È pericoloso rimanere con questo grosso gonfiore che sussista tutt'oggi? Grazie, Teresa. Se c'è un'esposizione del cerchiaggio, direi che è una condizione che deve essere affrontata in tempi brevi. Un anno mi sembra veramente troppo, quindi la signora si rivolga alla struttura che l'ha in cura per cercare di procedere in tempi brevi, in quanto l'esposizione del cerchiaggio può essere una via di accesso, una causa di un'eventuale infezione. Quindi va tolto il cerchiaggio. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo chiedere, io sono più di vent'anni quasi che vado alla clinica pulistica e ho fatto di tutto lì, ho compreso due cataratte, eccetera. Però non ci vedo benissimo. A parte le mosche volanti, io ho anche una gelatina che viaggia con lo sguardo. E mi hanno detto che non c'è niente da fare. Comunque, diciamo che è un peggioramento la situazione. Io vorrei fare un controllo diverso da un'altra struttura. E chiedevo il dottore dove opera con me. Grazie. Grazie, per il tanto sono tanti i messaggi che arrivano. Quindi lo ricordiamo. Dove lavora lei e tutto il suo staff? Ma io lavoro qui all'ospedale di Sestri Ponente e di Villa Scassi a Genova, ma non credo che sia proprio necessario che il paziente si faccia visitare in altre strutture perché se è seguito in clinica pulistica è un centro di assoluta eccellenza per cui non è assolutamente necessario che si rivolga ad altre strutture. Oggi si vede che è la mattinata del corpo vitrio e quindi arrivano domande. Però quello che ha il paziente è quello di cui abbiamo parlato prima. quindi molto probabilmente non ci sono procedimenti o terapie da poter consigliare al Signore. Allora, cerchiamo di andare un po' più veloce perché siamo stati invasi dai messaggi come sempre. Buongiorno. Vorrei che si parlasse della patologia dell'occhio secco in una persona di 65 anni. Questo disturbo è venuto e purtroppo è rimasto dopo un'infezione da Covid leggero tra giorni di malattia. Grazie. Beh, parlare dell'occhio secco è un argomento oggi particolarmente di moda perché l'occhio, diciamo così, ha una situazione, ha una modalità di lavoro soprattutto quando ci si applica molto davanti a schermi, a videoterminali per cui il film lacrimale viene a risentire di questa particolare attività lavorativa dell'occhio in conseguenza degli ammiccamenti che si modificano, che aumentano con l'esposizione davanti ai videoterminali. La terapia dell'occhio secco è una terapia essenzialmente sostitutiva, quindi abbiamo dei colliri lubrificanti essenzialmente a base di acido ialuronico, di carbossi metilcellulosa che vanno ad avere un'azione sostitutiva, quindi un'azione terapeutica utilizzando con particolare abbondanza questi colliri. Se poi l'occhio secco determina delle infiammazioni della superficie anteriore dell'occhio allora bisognerà poi provvedere con dei colliri più importanti che dovrà valutare lo specialista. Per il momento quello che noi consigliamo ovviamente è quello di utilizzare soprattutto in paziente che hanno un'attività lavorativa davanti a PC, computer, videoterminali, i sostituti lacrimali. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, io ho 75 anni, sono stata operata all'inverno scorso di cataratta, la seconda perché due anni fa ho fatto l'altro. Ho dei problemi durante la notte in quanto io mi sveglio e vedo delle macchie nere, praticamente come se avessi un velo nero davanti agli occhi e devo usare una pila per riuscire ad andare in bagno o fare dell'altro. E volevo chiedere al dottore che problema ho, perché ora ho una visita prenotata per il prossimo Umberto, però avere qualche notizia un pochino più... Bene, vediamo se può dire qualcosa in attesa della sua visita con lo specialista. Grazie. Credo di non essere di grande aiuto la signora perché è una sintomatologia strana, sicuramente non ha nessuna attinenza con gli interventi di cataratta che ha fatto la signora. Bisognerebbe chiedere se poi questa macchia nera che vede al risveglio così intensa, tale da dover usare pile per potersi muovere è presente anche durante l'arco della giornata. Io consiglierei alla signora di fare una visita, ma non nell'imperno, di fare una visita abbastanza in tempi brevi, eventualmente anche rivolgendosi a un pronto soccorso, anche al nostro pronto soccorso. Venga tranquillamente che la visiteremo e cercheremo di capire se ci sono dei problemi. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiedo un'informazione, gentilmente. Io ho 51 anni e non chiedo, quei, diciamo, vermestini, che io chiamo così, che si vedono passare davanti agli occhi, quando giri l'occhio, cosa sono? Nel senso, io poi, vabbè, ho una visita oculistica, ma purtroppo col CUP si va molto in là con le date, andrò privatamente, sicuramente, però è tanto, tanto. Ora, una volta un amico che è oculista mi diceva, ma no, sì, li abbiamo un po' tutti, queste cosine nere che passano, che si vedono. Basta, devo solo chiedere questo. Abbiamo parlato prima, molto probabilmente sono corpi mobili endovitreali di poco significato clinico, soprattutto se la signora ce li ha da tanto tempo, fare un controllo ovviamente è utile per valutare le condizioni della retina e soprattutto della retina periferica. È una situazione comunque comune a molte persone e, come dicevo prima, è frequentissimo avere questi corpi mobili endovitreali. I cristallini artificiali inseriti con intervento di cataratta possono opacizzarsi con il tempo? L'intervento per la pulizia è pericoloso? Grazie Andrea. Allora, non si opacizzano i cristallini artificiali, per fortuna, perché se si opacizzano i cristallini artificiali dovremmo andare a toglierli, a sostituirli e quando l'intervento di cataratta è stato fatto da parecchio tempo è un intervento abbastanza complicato e che oggigiorno si fa molto raramente perché, ripeto, i cristallini artificiali di ultimissima generazione sono di qualità elevata. Quello che si opacizza è la capsula posteriore del cristallino. Quando noi facciamo l'intervento, cosa facciamo? Praticamente andiamo a svuotare il cristallino naturale lasciando l'involucro esterno in situ, che rappresenta anche la parte più difficile dell'intervento, cioè conservare l'integrità di questa capsula posteriore. Col passare del tempo questa capsula posteriore si può riopacare e quindi si va a trattare questa che viene chiamata opacità secondaria o cataratta secondaria con un trattamento laser, trattamento laser che è un trattamento diciamo molto banale, un trattamento che viene effettuato di routine, che non comporta alcun disagio per il paziente, tutto quello che noi facciamo però può comportare qualche problema. In particolari condizioni, soprattutto nell'occhio mio, per andare ad aprire questa catalatta secondaria può determinare un risentimento di questo corpo vitreo che è stato l'attore principale di questa puntata e quindi andare a procurare delle lesioni alla retina periferica. Quindi la cataratta secondaria va trattata quando l'opacità è tale da determinare un vero limite alla capacità visiva. Molto spesso si sente andiamo a fare una pulizia, andiamo a pulire questo cristallino artificiale. Il trattamento laser va fatto se c'è una cataratta secondaria che determina una diminuzione della vista. Altra cosa è molto meglio farla dopo un certo periodo che è stato fatto l'intervento, quindi coloro che fanno questa pulizia dopo essere stati operati da poco aumentano di molto la possibilità che la complicanza vitroretinica si manifesti con maggiore frequenza. Allora dottor Giacomelli, siamo già fuori tempo massimo, però per favore ci scrivono per quei posti di cui parlava Giacomelli che si aggiungono settimanalmente, in particolare a Sestri, si può avere qualche indicazione per quando bisogna chiamare, giorno e magari anche ora? Perché al CUP ne dicono di tutti i colori, non so se sia possibile o se dipende da settimana a settimana. Bisogna rivolgersi al CUP quotidianamente perché noi a fine mattinata ogni giorno diamo delle prestazioni aggiuntive che purtroppo vengono ad essere occupate in tempi brevissimi. Il reparto oculistico di Sestri è un'eccellenza perché il primario è presente, professionalmente eccezionale e competente. Operata da entrambi gli occhi e anche nella sedazione ho sentito il rispetto delle persone, di tutti quelli che lo coadiuano e lavorano con lui. Chiudiamo con questo messaggio. Quindi come abbiamo iniziato, abbiamo finito. Grazie, grazie dottoressa. Grazie, grazie dottor Fabio Giacomelli, buona giornata e buon lavoro.